Principalmente italiani e tra i 40 e i 49 anni. Sono loro che occupano la fetta più grossa di chi oggi per necessità bussa alla porta della Caritas. I dati del rapporto sulla povertà in provincia di Arezzo diffuso di fronte ad una platea di studenti del liceo scientifico Francesco Redi sono stati resi pubblici nella giornata mondiale contro la povertà che ricorre il 17 di ottobre. Il ritenere che tutte le povertà in questa città siano dovute alla presenza degli immigrati, degli stranieri non è così e già su questo ho sentito molti commenti anche molto stupore questo crescente numero di povertà anche nella nostra città o l'aumento di anziani rispetto ai giovani e che forse magari lo straniero può essere portatori di bambini, portatori di nascite, portatori di nuove risorse. Questo può essere una prospettiva interessante all'interno di questa situazione che comunque è drammatica. I dati sono pressoché stazionari dai 2.205 accessi del 2016 siamo scesi a 2.101, un risultato però che non deve trarre in inganno la povertà ad Arezzo è tutt'altro che debellata. Il rapporto che ha denominato a stanti, cioè persone in fila, in attesa, dà delle conferme. Ormai si può parlare quasi di povertà strutturale per alcuni fenomeni. Pensiamo a una bella fetta di persone anziane che con la minima, con la pensione sociale non riescono ad emergere. Pensiamo a molte situazioni di mamme con figli piccoli a carico, con minori a carico che sono sempre situazioni vulnerabili. pensiamo a coloro che magari hanno avuto possibilità di lavorare, quindi un accesso al mercato del lavoro, ma che rimane difficile per loro soddisfare tutte le esigenze di una vita normale. Oggigiorno il disagio dell'adulto è un po' la cenerentola delle politiche sociali. In realtà ci rendiamo conto che in un territorio come il nostro, dove il 25% della popolazione è ultra 65enne, dobbiamo tenere in considerazione che il disagio dell'adulto è una realtà molto pesante, multiproblematica, con tante dinamiche. Più teniamo l'adulto in un contesto integrato e non emarginato, è più facile creare una società giusta e coesa.